Creare un titolo in Premiere, abbiamo visto, vuol dire quindi creare in sostanza un'immagine fissa. Saranno poi i nostri strumenti di animazione a spostarlo, a gestirlo, a scalarlo e così via. In realtà in Premiere c'è un tipo di testo animato, il cosiddetto testo scorrevole. L'abbiamo visto migliaia di volte, sicuramente al cinema, quando alla fine del film vediamo i famosi titoli di coda a scorrimento verticale. Anche in televisione, di solito, quando finisce un programma, c'è un testo a scorrimento orizzontale, di solito in basso, con un percorso da destra a sinistra, di solito. Questo tipo di titolo animato lo possiamo produrre in Premiere. Bisogna solo fare un paio di passaggi. Immaginiamo che, facciamo un esempio classico, qui alla fine, dove ci sono le ultime clip, ecco, io voglia una lista di attori, operatori, fonici, tutte le persone, ringraziamenti, tutto quello che potete immaginare di mettere in un titolo di coda. Quindi mi metto nella zona, giusto per avere un riferimento, e vado a creare un nuovo titolo. Nuovo titolo, lo chiamo titoli di coda. E do l'ok. Anche qui cerco di farmi un po' più di spazio, qui avremo bisogno di un po' di spazio, effettivamente. Ecco, creare un titolo di coda è di per sé identico a creare un titolo fisso. Bisogna solo cambiare una opzione, bisogna solo segnalare la tipologia di titolo. Guardando i vari pulsanti e coni della titolatrice, vedo il secondo pulsante qui in alto a sinistra, che si chiama opzioni di scorrimento. Lo clicco. Tutti i testi che facciamo, i grafici, non scorrono perché sono immagini fisse. È qui che vado a scegliere se fare il titolo a scorrimento verticale, cioè quindi il classico titolo di coda, oppure quello televisivo che scorre qui in basso e qui sceglierò se fare da sinistra a destra o destra a sinistra. Scelgo il classico scorrimento verticale, ci sono altre opzioni ma le voglio guardare fra un pochino. Do l'ok. Non sembra cambiato molto. Adesso andiamoci a comporre un titolo, o meglio una serie di testi, che poi avranno senso come titoli di coda. Prendo la mia t di testo, comincio a disegnare un rettangolo, qui è essenziale appunto non fare il click ma disegnarsi dei paragrafi, quindi farsi un bel rettangolo di testo con una sola riga, poi aggiungeremo le altre. Anche perché innanzitutto devo scrivere la prima riga e capire se le dimensioni e così via vanno bene per tutti i miei titoli di coda. Facciamo un esempio semplice, scriviamo la lista degli attori, il primo attore, poi posso usare qualsiasi elemento per separare spazi e così via, di preferenza uso il tasto tab da tastiera, quello sopra il maiuscolo, che mi fa fare un passato, magari anche due tab, ok? Che così si stacca un po' e scrivo il nome del primo attore, Mario Rossi. Adesso per velocizzare copio e incollo. Copio questo testo, me la C contro il C, faccio invio, seconda riga, incollo. Diventa secondo attore. E qui scriviamo il nome che vogliamo. Qui vedo già che il mio titolo di codem è forse un po' troppo grande, quindi vado già a selezionare un po' questo materiale, comincio a scendere di dimensione font. Eventualmente possiamo anche cambiare tipo di font, grassetto e così via. Anche il colore magari possiamo farlo bianco, bianchissimo, che così risulta un pochino più visibile. Vado sempre un po' di copia e incolla perché effettivamente non posso stare qua a scrivere 10.000 righe. Ecco, ho 4-5 righe, poi incollo ancora. A un certo momento succede una cosa, arrivo alla fine del mio riquadro. Faccio un invio, incollo e qui c'è un segnale che mi sta dicendo attenzione, hai tante righe ma sono molto oltre il confine di questa scatola. Questo più segnala che c'è del testo nascosto. E' qua che si lavora principalmente con appunto il titolo di coda. Il titolo di coda deve essere quindi un box di testo in realtà gigantesco, molto più grande, molto più alto del mio quadro finale del video. Si prende la freccia nera, si riprende il box e con la maniglia inferiore si va a scalare il box fino a rivelare tutte le righe. Qui è un po' difficile perché devi andare molto in fondo e non sai fin dove arrivi, ma nessun problema. Facciamo questo passaggio. A questo punto il box è molto più alto, ecco che vedo la barra di scorrimento. Appare solo in questo momento, quando ho effettivamente creato un box molto più alto di quello che possa vedere. Vedo che effettivamente sono riuscito a creare una sezione tale per cui vedo comunque tutti i miei testi. Copio ancora e incollo un paio di volte, giusto per copia e incolla. Magari faccio dell'invio. Ancora ho il segnale che giustamente questo spazio non basta. Prendo la maniglia inferiore e trascino. E poi con la maniglia di scorrimento controllo. Sono arrivato in un punto, sì, effettivamente non vedo più, ecco, il segno più. Quindi questo mi può andare bene. Quindi devo lavorare con questo spazio veramente un po' particolare. Non è semplicissimo tutte le volte, però insomma non è neanche difficilissimo. Se fosse stato un testo a scorrimento orizzontale, stessa cosa. Un box però molto più largo del mio quadro finale e da allungare di volta in volta. Questo può bastare come titolo di coda. Chiudo e comincio a sovrapporre questi titoli di coda nella zona finale del mio lavoro. Per esempio qui. Effettivamente il titolo funziona, nel senso che appena entra in scena, ecco che ho lo scorrimento automatico di tutti questi testi. A differenza del titolo statico, che vale come una fotografia e quindi a durata infinita, il titolo ha un comportamento un po' strano, sembra un po' inelastico. Nel senso che la velocità con cui passano questi testi dipende dalla lunghezza. Se io allungo la clip del titolo, avrò gli stessi titoli che però passano più lentamente. Quanto durano questi titoli? Ma lo decido semplicemente tirando così la casella del clip del titolo e di conseguenza la velocità di scorrimento verrà regolata. Non mi piace tanto questo effetto che i titoli appaiono proprio subito già lì. Faccio un doppio clic sulla casella del titolo per riprendere il mio titolo. Torno nel pulsante dove ho creato il titolo a scorrimento, quello delle opzioni di scorrimento, e vedo delle altre opzioni che potrebbero tornare utili in questo caso. Inizia fuori schermo, termina fuori schermo. Vuol dire che comunque il mio titolo partirà da in basso fuori dallo schermo e entrerà fino alla primissima riga. Posso dare anche qui una sorta di velocità di modulazione. Diciamo che per 15 fotogrammi entrerà un po' rallentando e gli ultimi 15 fotogrammi uscirà anche lì un po' rallentando. Un effetto di dinamica molto molto leggero. Do l'ok, chiudo ancora la mia titolatrice, vediamo il risultato. Metto un po' prima, maiuscolo E con l'accento, ed eccoli qui che arrivano. Da fuori schermo e l'ultimo uscirà prima che finisca la clip, con un po' di rallentamento eventualmente. Da qui in poi possiamo far arrivare il nero o comporli magari direttamente su di un blocco nero o direttamente anche sulla trasparenza. Nessuno ci vieta di farli arrivare completamente alla fine quando abbiamo il classico titolo di coda sul nero. Quindi quando devo fare i titoli di coda ecco che il Premiere comunque mi offre uno strumento. La titolatrice è sicuramente molto semplice, sicuramente molto statica se pensiamo ad altri tipi di strumenti. Penso alle bellissime animazioni di testo che si possono fare in After Effects. È anche vero che la titolatrice di Premiere è piuttosto veloce nella creazione dei contenuti. E per una piccola animazione ecco che ho a disposizione gli strumenti di animazione se non il titolo a scorrimento.